Buonasera e buona domenica, nuovo appuntamento con l'informazione regionale di ETV. Si sono svolte senza problemi le operazioni di rimozione e disinnesco dell'osigno bellico trovato qualche settimana fa in un cantiere di via Toscana a Bologna. Come da ordinanza comunale la zona è stata sgomberata dalle 9 di questa mattina fino alla fine delle attività condotte dagli artificieri del Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. Circa un migliaio le persone interessate dall'evacuazione. Per una parte della mattinata è stato anche interrotto il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Firenze. Verso le 11.30 in tutta la cosiddetta zona di pericolo la situazione è tornata alla normalità. Nel frattempo la bomba del peso di circa 50 kg e inesplosa, dunque ancora potenzialmente pericolosa, è stata portata in una cava nei pressi di Pianoro dove poco dopo mezzogiorno è stata fatta brillare in tutta sicurezza. E ora ci spostiamo a Modena e allarme sicurezza in molte città della nostra regione, soprattutto appunto a Modena dove negli ultimi giorni c'è stata una vera e propria escalation di rapine e altri reati. Se ne è parlato anche in una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo un periodo di tregua la criminalità si fa nuovamente sentire, ma anche con dinamiche differenti. Non solo vengono messe a segno rapine ferrate, ma in centro storico si organizzano bande di immigrati bengalesi che si fanno la guerra. Una faida che in questi giorni ha registrato una recrudescenza degli episodi. Un'ondata di violenza che si è scatenata il 29 settembre, quando tre bengalesi hanno aggredito e rapinato un connazionale titolare di un negozio di alimentare di Via Coltellini ed è culminata ieri pomeriggio con una rapina in un esercizio commerciale di Via Selmi. L'assessore alla sicurezza Marino annuncia un giro di vite e un impegno capillare della Polizia Municipale. Per far fronte alla situazione di emergenza è stata convocata una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. In queste ore è stato convocato il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, previsto per il 5 dicembre, di concerto col Sindaco. Il Prefetto ha convocato il Comitato. In quella sede noi mettiamo a disposizione tutta la forza della nostra Polizia Municipale. È evidente che la Polizia Municipale è solo una parte delle possibili soluzioni da mettere in campo. Voglio sempre ricordare come l'Ordine Pubblico e la Sicurezza siano temi che riguardano anche il Governo, anzi che soprattutto riguardano il Governo centrale, ma noi vogliamo fare la nostra parte ed essere in campo su questo. Io voglio lanciare un segnale ai cittadini modenesi. Abbiamo vissuto qualche mese relativamente tranquillo. La situazione oggi ha avuto episodi eclatanti, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di reagire insieme e riappropriarsi dello spazio pubblico come deve essere in una città moderna. E sempre in tema di sicurezza, una pensionata di 75 anni è stata rapinata all'ingresso del suo condominio in zona cirenaica a Bologna. L'antiana ha raccontato di essere stata aggredita da un italiano alto 1,80 m e armato di un coltello. Dopo averla strattonata le ha chiesto l'anello che aveva al dito, non riuscendo però a sfilarlo le ha preso gli orecchini. Poi è scappato la vittima, anche ha avuto un lieve malore. Un operaio di 45 anni di origine marocchina è stato arrestato per una violenta aggressione che ha fatto finire all'ospedale la moglie. Una connazionale di 42 anni è successo a Castel San Pietro, nel Bolognese. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di alcuni vicini che sentivano provenire delle grida dall'appartamento. Completamente ubriaco, l'uomo aveva in mano due coltelli da cucina che stiamo vedendo in queste immagini, mentre la moglie aveva segni di percosse e anche ferite da taglio alle braccia. Per il marito le accuse sono di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. Ancora cronaca, la soprano modenese Mirella Freni è indagata dalla Procura di Bologna per riciclaggio ed esportazioni di valuta all'estero nell'ambito dell'inchiesta sulla banca BER. L'artista modenese, a 76 anni, sarà sentita dagli inquirenti di Bologna nei prossimi giorni per chiarire la propria posizione, dopo che il sostituto Antonella Scandellare le ha inviato un avviso di chiusura indagini. Secondo l'accusa, si sarebbe resa responsabile di esportazione all'estero di denaro in violazione delle norme antiriciclaggio. Il soprano, tramite la propria portavoce, ha respinto questa tesi aggiungendo di volere subito chiarire la propria posizione alla finanza del cui si aspetta di essere convocata. Una maestra di una scuola elementare di Bologna è stata sollevata dal suo incarico di insegnanti di religione cattolica per aver fatto una lezione sui tema del bene e del male citando un passo dell'Apocalisse. Se i genitori e i alunni la difendono, ma ora la maestra, che si chiama Cristina Vai, ha anche l'appoggio del deputato PDL Fabio Garagnani. Vediamo. Io sono stata sospesa dall'insegnamento di religione cattolica. Io sono un'insegnante statale, sono l'insegnante primaria di una scuola a modulo. Il mio caso è il primo successo in Italia perché le insegnanti di religione vengono sospese in casi eccezionali dalla curia, dalle autorità ecclesiastiche. Io invece sono stata sospesa dall'insegnamento delle religioni cattolica da un funzionario pubblico, dal preside, cosa che non è mai successo perché non spetta a lui. Sono stata accusata di aver traumatizzato una bambina con una lezione sull'Arcangelo Michele presa dall'Apocalisse, in cui io ho trattato la lotta tra il bene e il male. Andrevole Garagnani le ha presentato un'interpellanza in merito a questo episodio. In una scuola di Bologna la maestra è stata sospesa. Sì, ho presentato l'interpellanza perché ho ritenuto il mio dovere di parlamentare cittadino di chiedere al governo chiaramente in merito a una vicenda oscura che è emblematica di un livello di ideologizzazione che è presente in alcune scuole di Bologna, da sempre peraltro. E mi riferisco al terzo ciclo didattico, le scuole bombici. Ora, il fatto che un'insegnante validissima, confortata del parere di tutti i genitori e dei propri alunni, sia stata sospesa dall'insegnamento della religione perché forse per motivazioni che non sono ben comprensibili ma comunque sicuramente improntate ad una concezione ideologica non rispettava quelle che sono visioni particolari del dirigente scolastico, credo che sia un fatto particolarmente grave. Nuovo allarme per le infiltrazioni mafiose nella nostra regione e in particolare in provincia di Reggio Emilia. Lanciarlo questa volta è il sostituto procuratore della DDA di Salerno, Vincenzo Montemurro. Sono oltre 5.000 i nativi di Cutro, uno dei comuni a maggiore densità di criminalità organizzata nel Crotonese, che abitano a Reggio Emilia dove hanno avviato attività economiche. Alcuni di loro appartengano, dice ancora Montemurro, a nuclei familiari all'interno dei quali sono intervenute condanne per associazione di stampo mafioso. Il magistrato Vincenzo Montemurro è intervenuto a un dibattito che si è svolto a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, nell'ambito della rassegna politicamente scorretto. L'Arcidiocesi di Bologna richiama la Regione Emilia-Romagna a dare risposte alle famiglie. Questo è il senso dell'editoriale pubblicato oggi su Bologna 7. Sentiamo. È un vero peccato che la nostra Regione, in tempi di crisi economica e dei ripetuti appelli alla tutela della coesione sociale e nazionale, non colga l'importanza che assume la protezione delle reti di solidarietà e l'adempimento di elementari impegni di equità sociale nei confronti delle famiglie. Lo sottolinea l'Arcidiocesi guidata dal Cardinale Carlo Caffarra nell'editoriale di Bologna 7, supplemento domenicale al quotidiano cattolico avvenire, affidato a Paolo Cavana, responsabile dell'osservatorio giuridico legislativo della conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna. Regione e ticket, tempo scaduto, le famiglie chiedono risposte. E questo è il titolo dell'editoriale, che ricorda come due anni fa lo stesso Caffarra aveva rivolto a Giunta e Consiglio regionali un accorato appello per invitarli a ripensare alla disposizione che mette sullo stesso piano singoli, famiglie e convivenze nell'accesso ai servizi pubblici locali. Nell'editoriale l'Arcidiocesi affronta anche il tema dei ticket sanitari, introdotti recentemente dalla Regione sulla base di fasce di reddito, una misura che penalizza le famiglie. La Giunta aveva annunciato correttivi, conclude Bologna 7, di cui però ancora non si vedono tracce. Siamo allo spettacolo, grande successo come prevedibile per il concerto di Paul McCartney, che ieri sera ha aperto a Bologna il suo tour 2011. Vediamo. È bello essere qui per la prima volta. Ciao Bologna, come va? Paul McCartney ha salutato così 12.000 spettatori dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove ha aperto, cantando Magical Mystery Tour, la sua tourne 2011, che si chiuderà nella sua Liverpool il 20 dicembre. In un completo nero lucido, stile coreano e camicia bianca, imbracciando il basso e sfoggiando una voce ancora potente, il baronetto ha scaldato cuori e anime di un pubblico di appassionati di tutte le età, gli stessi che ieri pomeriggio lo hanno aspettato per ore al freddo davanti all'hotel di Via Indipendenza, dove alloggiava, e che ha salutato prima di salire sulla macchina che l'ha portato a Casalecchio. Ad ascoltarlo, in un palasport gremito, c'erano anche volti noti, Walter Veltroni, Lucio Dalla, dodi battaglia dei Pu. La scaletta, tenuta segreta fino all'ultimo, è stata di ben 39 pezzi, da quelli mitici dei Beatles a quelli della sua carriera da solista, con le altre formazioni che lo hanno accompagnato negli anni. Non è mancato un omaggio alla canzone italiana, suonando il mandolino ha intonato le parole «O sole mio», ma era solo l'introduzione del brano «Dance Tonight», poi ha sventolato anche il tricolore insieme alla Union Jack inglese. Dalla musica all'arte è stata inaugurata a Bologna la mostra «Le più belle maioliche» presso il Museo Medievale di Via Manzoni. Sono opere realizzate nel 1700 e in qualche modo facevano concorrenza alle grandi produzioni faentine. Vediamo. Oltre 200 opere uscite dalle manifatture del marchese Filippo Ghisilieri di Colleameno, di Antonio Rolandi a Porta San Vitale e dei fratelli Giuseppe Leopoldo Finca a Porta San Felice, tutte a testimoniare la fioritura nella seconda metà del XVIII secolo della produzione di maioliche a Bologna. E questo è il carattere della mostra «Le più belle maioliche» che è inaugurata al Museo Medievale di Bologna in Via Manzoni. «La maiolica a Bologna è sempre stata in tono minore rispetto a Faenza. Faenza era conosciuta in tutto, ed è tuttora conosciuta in tutto il mondo, proprio le sue maioliche sono conosciute come Faense, cioè si chiama proprio Faense. Però nel 1700 avviene un fenomeno praticamente nuovo. alcuni maiolicari che non provenivano da Bologna ma che si stanziano qua e lavorano qua praticamente per quasi 40 anni riescono a portare avanti un discorso alternativo a Faenza e addirittura a livello di produzione, quasi a livello di produzione industriale. Tant'è vero che nell'ultimo periodo, proprio siamo intorno dal 1797 ai primi anni dell'Ottocento, noi ci troviamo negli inventari la presenza di 27.000 capi che erano in giacenza. Quindi questo doveva presupporre, anzi presuppone, la presenza di moltissime maestranze molto specializzate con una produzione che non era soltanto per Bologna ma era una produzione per l'esportazione». In chiusura alcune brevi di calcio, vediamo i risultati delle principali squadre della nostra regione che hanno giocato oggi, in Serie A Bologna-Cagliari 1-1, Cesena-Genoa 2-0, in Lega Pro Reggiana-Ternana 0-2, Benevento-Carpi 0-1, Piacenza-Triestina 0-2. È davvero tutto, buon proseguimento di serata su ETV.